Amiche, siete uno spettacolo meraviglioso, siete il popolo di questo paese bellissimo che ha saputo ricostruirsi dopo la resistenza, ha rimesso in piedi le città, le fabbriche, ha rimesso in piedi le scuole, ha costruito le infrastrutture, ci ha insegnato il rispetto delle regole, ha costruito soprattutto la Costituzione della Repubblica Italiana. Il nostro vero programma, siamo gli unici ad immaginare ancora di realizzarla fino in fondo, quando invece i nostri avversari pensano di cambiarla, perché la radice antifascista della nostra Costituzione gli dà fastidio, gli inturba il sonno, perché loro sanno di avere portato questo paese 70 anni fa, in un piccolo secolo e ancora oggi senza idea, anzi con idee perverse qualche volta, di interferire nell'essente delle donne, di interferire nel ruolo di garante della Costituzione del Presidente della Repubblica. Sperano di ottenere la maggioranza che gli serve a cambiare la Costituzione senza referendum. impediteglielo, impediteglielo con tutte le vostre forze, con tutte le vostre energie, fatemi sentire di che basta siamo fatti. Noi, per costruire l'Italia, abbiamo sputato sangue, noi abbiamo faticato, non consentiremo a nessuno di cambiare il destino di uno dei paesi più belli e importanti del mondo. Grazie, grazie Presidente.